Ed è il turno ora della trave, rivediamo Evi Nessen, Olanda, alla trave, intanto siamo in attesa del punteggio di Daria Sarkos al Corpo Libero, vi ricordo che partiva da un nuovo venetto, 8,300 la votazione al Corpo Libero per Daria Sarkos. Sono 11 le squadre iscritte, c'è anche una dodicesima che è proprio la rappresentante della ginnastica Gioi per l'individuale, con Simona Mascetti che vedremo anche al termine di questa telecronaca. Per ora ginnastica di alto livello, questa di Como, come detto, per la ginnastica è un momento importante, un momento importante che va poi a culminare con il quadrienne olimpico che si chiuderà nel 2004 ad Atene con le Olimpiadi, Olimpiadi che vedono la nostra federazione vogliosa di riscatto dopo i problemi e le defiance di Sydney. Già agli europei si è vista una buona Italia, sia l'Ello Juniors che Seniores, sia gli europei maschili che femminili, bisogna far di più, intanto si accavallano i tanti impegni, tra poco ci saranno i modi.